Luigi De Vincenzi, candidato sindaco a Pietraligure, ma quali sono intanto le prime sensazioni di questa campagna elettorale e qualche parola sulla squadra? Le prime sensazioni sono buonissime, nel senso che io di fatto ho risposto a una richiesta che mi veniva da più parti del Paese, chiaramente sono conosciuto, nel senso che ho già fatto dieci anni il sindaco, quindi credo di aver già lasciato l'impronta e questo mi fa piacere e questo mi ha consentito peraltro di creare una bellissima squadra, una squadra molto giovane, una squadra che abbraccia molte sensibilità del Paese, se non quasi tutte, di gente che si dichiarata disponibile a darmi una mano su questo percorso e la intraprendiamo insieme con un sacco di entusiasmo e soprattutto con la voglia di quelli specialmente nuovi di mettersi al servizio del loro Paese. Tra i temi caldi di questa campagna elettorale, naturalmente Pietraligure, come non parlare del Santa Corona, c'è qualcuno che ha attaccato anche su questo punto, ma si è fatto abbastanza, si è fatto sia quando lei era sindaco, ma sia in regione, quali sono gli obiettivi per il prossimo eventuale mandato? Guardi, gli obiettivi sono quelli di salvaguardare Santa Corona, è quello che io ho fatto quando ero sindaco, ma anche in questi 4 anni da consigliere regionale. Non ne ho visti molti altri che si sono spesi su questa partita, se non adesso venire a attaccare me per forza attaccare loro stessi, vuol dire, visto che è 4 anni che governano la sanità in Liguria, credo che non possano più parlare come quelli appena arrivati, in 4 anni se c'era delle cose sbagliate fatte da delle precedenti amministrazioni c'era tutto il tempo di correggere. Credo che siamo andati esattamente al contrario, Santa Corona purtroppo è sotto gli occhi di tutti e certamente non è migliorata come servizi, ma non per il grandissimo lavoro, e per l'impegno di medici, di personale paramedico e di tutto quello che in Santa Corona opera. Questi hanno fatto veramente il miracolo, i tagli sono sotto gli occhi di tutti, non li devo certamente dire io, quindi attaccare De Vincenzi vuol dire un po' cercare di mettersi in difesa loro stessi. Invece per quanto riguarda le prospettive, è ancora presto per eventuali appelli al voto o cose di questo genere, ma perché dovrebbero scegliere i cittadini di Pietraliguere proprio Luigi De Vincenzi? Possono sceglierlo perché se hanno apprezzato i miei 10 anni di lavoro è abbastanza semplice sceglierlo e poi soprattutto perché se vengo eletto io certamente tutto il mio tempo lo dedicherò a Pietra in quanto faccio questa scelta, anche importante di lasciare la regione. E secondo lei dall'altra parte ci sarebbe la possibilità di un impegno concreto ed effettivo per Pietraliguere? Ma vedi non lo so, in genere in queste campagne elettorali cerco sempre di parlare di quello che voglio io e non di quello che fanno gli altri, vedo che gli altri lo fanno spesso sulla mia persona, io continuo a essere sempre lo stesso, futuro di Pietra, impegno per Pietra e partecipazione per Pietra.